Ed è il momento di presentare l'ennesima fatica letteraria del giornalista, nonché filosofo Alessio Viola Il passato è un cane che ti azzanna, il passato, il ricordo Le mie colleghe, capito, scrivono senza il passato Il ricordo è l'essenza del passato, dunque siamo lì Allora, spieghiamo innanzitutto la scelta del titolo Alessio La scelta del titolo è un passaggio del libro, in realtà Laddove si racconta della vicenda ispirata ai due fratellini di Gravina Che credo tutti ricordano Personalmente ho maturato una convinzione Si è trattato di un gioco, un gioco finito male, tragicamente I bambini coinvolti in quel gioco, come tutti i bambini Sono capaci di grandissime omertà I bambini hanno molta paura delle rappresaglie paterne dei genitori E io sono personalmente convinto, non ho nessun elemento Ma sono convinto che da quel gioco tragico sia nata poi una vita Per quei bambini, i protagonisti di quella vicenda Che sarà purtroppo per loro una vita di rimorsi E di ricordi che all'improvviso ti azzannano Quando è successo di raccontare questa storia? Perché hai scelto di raccontare questa storia? Perché io sono padre da poco tempo Un bambino di 7 anni E sto conoscendo direttamente il mondo dei bambini I bambini sono straordinari, lo sappiamo Ma in certe situazioni e a certe condizioni La paura è capace di paralizzarli Ora io non sono un padre repressivo naturalmente Ma se mi guardo intorno vedo che nei bambini c'è questo comportamento E poi rileggendo e analizzando le cronache di quei giorni terribili Di quella sparizione Mi sono convinto che si possa essere trattato di questo Di un gioco, un gioco finito male I bambini scappano Paura di confessare Paura di raccontare La paura poi mano a mano che passa il tempo diventa ancora più forte I bambini non confessano più Sono capaci di grandissime omertà E d'altronde anche le modalità del ritrovamento Dal mio punto di vista rafforzano questa ipotesi Alessio che funzione ha il segreto all'interno del tuo lavoro? In qualche modo è una riflessione su quanto poi tutti noi siamo capaci di portarci dentro qualcosa Io credo che ognuno di noi abbia se non un armadio Insomma un armadietto, un comodino Con un po' di scheletri, con un po' di segreti Che non abbiamo mai raccontato Che forse non racconteremo mai Molto spesso i segreti fanno paura a noi stessi che li custodiamo Sartre diceva che la parte più bella di noi è affidata al silenzio Sì, quando riguarda appunto una sfera Che è quella delle emozioni, dei sentimenti, degli amori Ma di tutte le passioni Tutto quello che riguarda il mondo sovrastrutturale Io non sono d'accordo In questo caso io mi sono posto il problema Se veramente fosse vera questa ipotesi che io ho avanzato Quale potrebbe essere la vita di questi bambini Mano a mano, che crescono, che vanno avanti, consumano le esperienze Questo interrogativo mi sono posto e ho affrontato in qualche modo In questa storia, in qualche modo Questa storia mette in evidenza le caratteristiche della nostra terra, della Puglia Eh beh sì Io ho fatto anche un'altra cosa Poiché questa vicenda è troppo viva ancora Sia nel tempo che proprio nell'opinione pubblica Non volevo entrare, come si dice, a gambe unite in questa vicenda Toccare emozioni, sentimenti familiari che io rispetto moltissimo Allora questa storia l'ho trasportata nel tempo e nello spazio L'ho ambientata negli anni 60 della mia infanzia, nel mio paese Ricordando, riportando alla memoria le vicende, le avventure di quando eravamo noi bambini Allora questo è un racconto della Puglia in realtà degli anni 60 Oltre che della storia dei due fratellini Il racconto dell'emigrazione, io stesso non emigrato Di un gruppo di bambini che era così unito e felice dalla propria infanzia Che poi si è perso, si è smarrito per le strade della vita Questa storia drammatica mi è servita per parlare di cos'è stata l'infanzia dei bambini in Puglia Tanto tempo fa La sensazione di uno scrittore quando termina di mettere tutto nello subianco? Io non lo so, credo probabilmente, non sono una donna Ma insomma, credo che forse possa essere assimilata a quella depressione post partum Che colpisce le donne in misura più o meno forte Ancora ti lanci? Sì, allontaniamoci, la tentazione è forte Esiste questa sindrome, è un fatto Lavori tanto, soffri anche magari per mettere al mondo una creatura Certo, un libro è molto meno impegnativo di un figlio naturalmente E dopo ti prende quella sorta di sensazione di vuoto Va bene, ho fatto questa cosa E ora? E ora che ne faccio? Come la faccio crescere? Come la alimento? Credo che sia una sensazione simile a quella che provano le donne Ma il vuoto è cadere o volare? No, il vuoto è cadere sicuramente Volare è fantastico Volare, io non lo so A me capita per fortuna ogni tanto di fare quei sogni dove si vola E sono bellissimi Sono sogni Quando mi capita di sognare di cadere nel vuoto Quello è un incubo Quello è l'incubo peggiore, credo Insieme al buio di cui si parla poi nel libro Allora, ricordiamo il racconto Il ricordo è un cane che ti azzanna Alessio Viola Edito dalla Progedit Questa immagine, Alessio Ne scelta da Ha una storia dietro? Questa immagine è un po' il racconto Dell'evoluzione dei bambini Un pupazzo che può essere un pinocchio Che può essere il simbolo delle nostre infanze Che cammina su una tastiera di computer Rappresenta, ha l'idea insomma di rappresentare questo passaggio Delle generazioni che ora crescono e crescono molto velocemente E le sfide sono sempre più difficili Per chi è genitore oggi è davvero una sfida impegnativa Insomma, seguire la crescita dei propri bambini Il prossimo lavoro Il prossimo lavoro Dopo questa tragedia insomma della depressione postpartum No, il prossimo lavoro Tu stai lavorando parecchio Sì, è un ottimo modo per non leggere Io cerco disperatamente di scrivere ogni giorno Perché voglio evitare la fatidica domanda che si fa Quando si incontrano le persone Ah, che stai leggendo? Scrivo Niente, sto scrivendo Non posso leggere, scusate Non posso seguire tutte le classifiche bestseller Sto scrivendo E sto facendo una ricerca Un argomento Complessa Diciamo che stiamo lavorando sulle storie di questi anni Della vita a Bari Vista dalla parte Dal dark side della vita La mala vita di Bari Bene, interessante Allora, aspettiamo anche il tuo prossimo lavoro Nel frattempo Nelle migliori librerie di Bari Troverete il ricordo È un cane che ti ha zanna Di Alessio Viola Ti ringrazio per essere stato nostro ospite E in bocca al lupo Arrivederci, grazie La puntata di Piazza termina qui Un saluto Ciao Dormo sull'erbo molti amici Dormo sull'erbo molti amici Innamorati in Piazza Grande Nei loro guardi Nei loro amori Tutto sono Sbagliati Emo Dormo sull'erbo molti amici Dormo sull'erbo molti amici Di Alessio Viola Dormo sull'erbo molti amici Dormo sull'erbo molti amici